Ah! Per preparare le penne all'arrabbiata scolate i pelati e schiacciateli con una forchetta per spezzettarli poi tritate il peperoncino con un caldello oppure sbriciolatelo con le mani lasciate cuocere per 12 minuti, trascorsi i 12 minuti togliete il coperchio ed eliminate l'aglio biscotti, frollini, ingredienti, farina di frumento, zucchero, cioccolato al 14%, olio di girasole, burro, sciroppo di glucosio amido di frumento, agenti lievitanti, sale, aroma, fanellina gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti lega attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene informazioni importanti per lei prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare e conservi questo foglio potrebbe avere bisogno di leggerlo di nuovo se desidera maggiori informazioni o consigli ma si rivolga al farmacista scopri 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 la sensazione di una pelle delicata vellutata aiuta a mantenere naturale idratazione della pelle lasciandola morbida e cremoso coccola il tuo corpo è facile da risciacquare e non irrita gli occhi e adesso scegliete voi un prodotto e l'intenzione con cui volete che interpreti degli altri sketch quelli che ci faranno più ridere li metterò in una nuova pillola grazie 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 grazie